No scusa, sai che Renzi ha appena bloccato la riforma del Catasto? No scusa lo sai, è successo due mesi fa Lo so, lo so Eh no, no, per capirci, dopo io sono contrario perché la vogliamo massacrare la persona Non è facile dire ha bloccato la riforma del Catasto Ma ti dico di più, giustamente perché scusate era il massacro perché noi sulle case non è che quei soldi arrivano dal cielo sono soldi che sono già tassati e noi abbiamo una più alta tassazione di tutta Europa Quindi non è che se uno paga le tasse quando prendi soldi Quindi non è contento, perché bisogna farlo in maniera seria Se noi cominciamo sempre da capo in questo paese, sempre da capo Se tolgono l'Imu e la Tasi Se tolgono l'Imu e la Tasi Fino al stesso bene Il mio problema è che non facciano come con i famosi 80 euro Dove danno gli 80 euro e poi fregano 160 da l'altra parte perché allora ci sono meno, non più 80, ma meno 80 euro nelle tasche di cittadini Potete sentire Castaldi che ne pensano